torniamo alla vittoria ragazzi che soddisfazione, che goduria si torna a vincere si torna a tifare ancora di più la Juventus Juventus batte 2-0 il Monza con gol di Federico Chiesa e con il gol di Alexandro non sto scherzando che torna al gol e dà l'addio in maniera più adeguata rispetto a quello che si poteva aspettare prima di tutto ragazzi vi invito come sempre a iscrivervi al canale ad attivare la campanellina per avere tutte le notifiche riguardanti i nostri contenuti e a mettere vi piace o non vi piace al video allora io sto registrando mentre c'è la pausa in attesa del match tra Cody e Logan Paul però posso ho riuscito comunque a vedere la partita tramite un secondo schermo praticamente voglio dire la partita non è stata non è stata spettacolare però rispetto alle partite dove vedevo la Juventus di Allegri chiusa in difesa che faceva giocare l'avversario ho visto mi sono divertito di più ho visto un grande Fagioli che ha fatto l'assist e poi per il gol del 2-0 di Alexandro ho visto una grande partita di Federico Chiesa che è letteralmente on fire in vista dell'Europeo l'unico che non mi è piaciuto è Timothy Bivacchi aveva anche regalato il calcio rigore per il Monza che grazie a Dio non c'era perché semplicemente non lo tocca e ragazzi ha giocato pure Pinsoglio il nostro terzo potere praticamente Pinsoglio si è fatto il secondo tempo non ha fatto neanche una brutta partita ha fatto anche delle belle parate sui giocatori del Monza e non abbiamo preso gol che forse è la cosa positiva è già una soddisfazione è una soddisfazione anche perché torniamo alla vittoria concludiamo forse al terzo o quarto posto non concluderemo al quinto posto perché il Bologna non può raggiungerci visto che ha perso ieri sera contro il Genoa l'unica squadra che può raggiungerci è l'Atalanta che ha due partite quella di domani contro il Torino e quella di recupero contro la Fiorentina e quindi concludiamo in maniera onorevole la stagione giocando a calcio facendo una partita discreta non dico una partita di calcio champiano contro il Monza perché ragazzi è una partita di fine stagione ah cosa anche che non ho citato è entrato di Halo tutti mi dicevano ma più buone ma non deve giocare è sempre rotto bla 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 ha giocato 16 minuti ok che è ingiudicabile però non ha fatto male ha fatto anche delle buone scroppate in in fase difensiva non mi è dispiaciuto di Halo io spero lo tengano perché semplicemente non ha avuto spazio non ha avuto tempo ha avuto infortuni a leghi non lo faceva giocare eccetera eccetera quindi spero che Tiago Motta che molto ovviamente sarà un nuovo guardatore possa valutarlo e il resto se voglio a dirti chi non mi è tanto piaciuto è Ildiz che era abbastanza nervoso e si è fatto anche ha riuscito anche di farsi nervosire da Izzo Izzo l'abbastanza l'abbastanza provocato nella partita e uno come Ildiz deve stare calmo e deve anche crescere e non i nervosissi secondo me poi per il resto non è che c'è tanto signore io sono contento del fatto che adesso la nostra Juventus sta pian piano strutturando il quadro di diregenziale perché con Giuntini che avrà pieni poteri da giugno stiamo già vedendo comunque che la Juventus ha preso ormai ha quasi preso Di Gregorio sta per prendere i suoi vice Pompiglio e Micheli poi arriverà Chiellini in società qualcuno dice ma Chiellini cosa ce ne facciamo però almeno se portiamo una società che quantomeno risponde alle domande e soprattutto si fa sentire quando le cose non si mettono bene a me va benissimo è importante che poi ricare delle carezioni giuste e che non sia solo una marionetta in società nel senso che non faccia la fine di Pavel Net parlo di Giorgio Chiellini poi il petto con l'arrivo di Tiago Motta questa Juventus bisogna assolutamente dargli tempo bisogna avere pazienza perché comunque è una squadra in costruzione è una squadra che viene dalle marcelle dei disastri di Massimiliano Degri che ha abbastanza svalutato la rosa tra cui Vlaovic che comunque ha fatto bene nonostante i disastri del mister Ildiz che ha fatto 5-6 partite poi il fenomeno in panchina perché l'ha visto troppo carico l'ha buttato in panchina e Nicolusi Caviglia che non ha mai visto il campo cioè che ha fatto solo 3-4 partite praticamente poi l'ha messo solo nella finale di Coppa Italia e lì il genio si è reso conto che zitto zitto Nicolusi Caviglia non è così scarso praticamente detto ciò la cosa anche buona è anche che non ha giocato Rabiot Rabiot io sarà forse segnale che forse Rabiot che tutti dicono rinnoverà vedrete i contiagomot hanno un buon rapporto eccetera eccetera però se la Juve gli fa un rinnovo di 5 milioni e lui vuole il doppio congiuntoli e la nuova dirigenza non è che si mettono avanti dicono ok ti diamo 8 milioni eccetera eccetera no congiuntoli devi pedalare e te ne devi andare via caro Bion visto che non sei un fenomeno eccetera eccetera quindi io sono l'idea che se Rabiot non accetta le nostre condizioni la dirigenza non ci mette due secondi a lasciarlo nella merda nel senso a non dargli rinnovo praticamente io sinceramente non lo rinnoverei perché non è non è non è un forte giocatore ma sul Monza il Monza è palese nel secondo tempo se l'ha un pochino giocata se voglio darti i migliori in campo Mari Pablo Mari che comunque non ha fatto sbavature Pessina che ha fatto dei giocati semplici ha un po' strafato secondo me nella partita gli attaccanti sono stati un po' un disastro Colpani non ha visto palla Carboni non ne parliamo però si vede chiaramente che la squadra è letteralmente in vacanze e di fine stagione dove comunque non non c'è più nulla da dire c'è è una partita dove comunque Monza è riuscito comunque a guadagnare la sua salvezza in tranquillità non sa neanche il futuro di Palladino se rimane no si parla di Fiorentina si parla di alte squadre quindi sicuramente rimarrà la dirigenza Adriano Galliani in onore del presidente Silvio Berlusconi che non c'è più e che comunque adesso hanno cambiato proprietà e rimarrà comunque Adriano Galliani tornando alla Juventus buona vittoria dalla Juventus che mettendo il tridente mettendo comunque la difesa mettendo il 4-3-3 vince e convince secondo me poi c'è tanto da limare in fase difensiva e anche un pochino a centrocampo ma questo lo farà il nuovo allenatore che arriverà che sarà Tiago Motta e che credo verrà annunciato credo a metà giugno perché si parla dell'annuncio di Tiago Motta verso metà giugno sono contento perché comunque concludiamo una stagione con una vittoria speriamo di avere un buon futuro per la prossima stagione e anche un buon mercato nel senso con giocatori funzionali per la nostra squadra perché ripeto a noi ci serve comunque due centrocampisti ci serve un vicebravich ci serve qualcuno in fase difensiva noi per adesso secondo me la squadra con questi acquisti può dire la sua per lo scudetto può dire la sua non vuol dire che non può vincere lo scudetto e poi voi mi chiedete come è stata la di Alessandro diciamo sono contento che abbia ricevuto l'addio mi è di un po' dispiaciuto per la persona Alessandro non per il giocatore perché il giocatore lo ritengo un giocatore ormai mezzo ritirato praticamente l'ho visto molto in lacrime il giocatore ha ringraziato Allegri ma vabbè è il suo pupillo praticamente almeno lui ha fatto un'uscita onorevole rispetto a quell'altro che non c'è grazie a Dio più in panchina e che vuole far causa perché vuole far causa la Juventus cioè andrà in causa con la Juventus per le questioni di quello che è successo con il direttore Guido Baciago e credo che si andrà per il lung comunque Juventus batte 2-0 il Monza con Chiesa il 26esimo e Alessandro il 28esimo il rigore è poi negato al Monza cambiato con la Salavar noi con le pagelle ci vediamo domani mattina domani pomeriggio iscrivetevi al canale attivate la campanella per le notifiche e detto questo noi ci vediamo alla prossima fino alla fine forza Juventus ciao ragazzi e buon sabato a tutti